Gaia potenzia e semplifica il fondo per le utenze deboli. Ora è sufficiente la dichiarazione ISEE, le riduzioni saranno visibili in bolletta e le domande possono essere inoltrate anche online. Vediamo. Per le famiglie in difficoltà non sarà più obbligatorio passare dai servizi sociali per accedere al fondo utenze disagiate di Gaia SPA. Basterà attestare un livello di reddito ISEE al di sotto del reddito di inclusione fissato a 6.000 euro. La società potenzia il servizio che tutela le fasce più deboli dei cittadini. Con il fondo utenze disagiate Gaia eroga un contributo per il pagamento delle bollette dell'acqua alle famiglie in stato di disagio economico o sociale. Fornisce la possibilità di accedere a piani di rateizzazione personalizzati e garantisce l'immunità dal distacco del contatore, assicurando la continuità del servizio. Se in possesso di bollette insolute, le utenze potranno, attraverso il contributo, ridurre la morosità esistente. Altrimenti, se in regola con i precedenti pagamenti, vedranno applicarsi il beneficio sotto forma di riduzione nelle bollette successive. E i cittadini che presentano domanda sono moltissimi. Tanto da esaurire ogni anno la capienza del fondo, a cui è possibile accedere attraverso la segnalazione dei servizi sociali. E da oggi consegnando la propria dichiarazione ISEE in uno degli sportelli al pubblico di Gaia. Questa è una delle novità. Nelle prossime settimane sarà attivo anche lo sportello online, con la possibilità di inoltrare la domanda via web. Altra importante novità è che nella bolletta il fondo sarà visibile sotto la voce Tutela Food. L'obiettivo è raggiungere sempre più utenti, semplificando e velocizzando le procedure, ha dichiarato il presidente di Gaia SPA, Vincenzo Colle. I servizi sociali restano interlocutori preziosi, ma era necessario riconoscere un percorso alternativo, come richiesto da molte amministrazioni comunali. Grazie. Grazie.